L'amore si deve porre più nei fatti che nelle parole, è proprio dell'amore comunicarsi. Questi due criteri sono stati indicati da Papa Francesco per identificare il vero amore durante la messa celebrata a Santa Marta. Illustrando la concretezza dell'amore di Gesù, il Pontefice ha chiesto di resistere all'egoismo per cercare la gioia piena del dono. Non c'è amore senza comunicarsi, non c'è amore isolato. Qualcuno di voi può domandarmi, ma Padre, i monaci e le monache di clausura sono isolati, ma si comunicano. E' tanto col Signore, anche con quelli che vanno a trovare una parola di Dio. Il vero amore non può isolarsi. Se è isolato non è amore. È una forma spiritualista di egoismo. Di rimanere chiuso in se stesso, cercando il proprio profitto e l'egoismo.